vedete questo è il galaxy s4 con la custodia della puro siamo in una location familiare a molti a voi invece no eccolo qua dentro non c'è tutto non c'è inganno questa è la custodia che va fino a 20 metri mi permanno che mi aiuta a fare il video sott'acqua la mascherina praticamente per fare le fotografie quindi è tutto aperto a campo aperto e diciamo è molto migliorato dagli altri anni vedete il mio galaxy s4 non galleggia rispetto alle altre questo è tutto un ciao da bruno